La stagione diotrale 2019-2020 entrerà nel vivo domenica 17 novembre con lo spettacolo Tutto Munno e palcoscenico che si darà al Teatro 99 Posti. La struttura, dopo tre anni di inattività, ritorna ad ospitare spettacoli essendo divenuta membro ufficiale del Consorzio Teatro Irpino, il quale comprende anche il Teatro d'Europa e quelli di Sant'Angelo de Lombardi e Sturno. Il 99 Posti riapre dopo tre anni e ha scelto di farlo rendendo omaggio, rendendo onore alle realtà che esistono sul territorio e che hanno, come dire, delle produzioni di livello artistico notevole. Il titolo del cartellone quest'anno è Provocatoriamente Rimanenze, dedicato a chi ha deciso di rimanere, restare e operare su questo territorio. È un omaggio al teatro. Due attori, Sasatra Panese e Angela Caterina, raccontano attraverso dei monologhi la storia del teatro. Un attore alla fine della carriera, una giovane attrice piena di entusiasmo e che guarda al futuro. È un po' un omaggio al teatro e agli attori che recitano e fanno grandi sacrifici per il teatro. Cosa ci aspettiamo? È nato un consorzio, Teatro Irpino, che mette insieme tutte le realtà territoriali. Partiamo adesso al 99 Posti, poi ci sarà un altro spettacolo al Teatro d'Europa, poi Sturno e poi Sant'Angelo e speriamo di coprire tutta l'Irpinia.